Gentili telespettatori, buona giornata. Alcuni titoli dicono 13 regioni a rischio alto o moderato con tendenza al peggioramento. Sembrano quasi le previsioni del tempo, no? Ma allora c'è una tendenza al peggioramento o no? Bisogna leggere questi dati, queste dichiarazioni in un certo modo. Locatelli, che è il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, dice così, la curva dell'epidemia rallenta straordinari i dati delle terze dosi. Da una parte l'epidemia rallenta e da una parte i dati peggiorano. Voi sapete che poi l'epidemia è indifferita di 15 giorni, 10-15 giorni. Gli effetti si vedono dopo 15 giorni. Pertanto la variante Omicron è più contagiosa ma meno pericolosa, sta prendendo il sopravvento, quella più contagiosa ma meno pericolosa, la Omicron. La curva dei contagi è esponenziale, ma la curva degli ospedalizzati sale, ma non in maniera esponenziale. Pertanto in proporzione, in percentuali, gli ospedalizzati diminuiscono, però visto che i contagi sono così tanti, alla fine gli ospedali si riempiono lo stesso. Quindi da una parte puoi dire che c'è una tendenza al peggioramento soprattutto per le strutture sanitarie e dall'altra parte puoi dire che c'è una tendenza al miglioramento perché i dati migliorano. Quindi da una parte i dati peggiorano e dall'altra parte i dati migliorano. Sembra quasi un controsenso ma non lo è. Franco Locatelli dice, certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza di infezioni. Tuttavia la crescita percentuale dell'ultima settimana è stata inferiore alla precedente e negli ultimi giorni vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica, in linea con quanto osservato in altri paesi. Nel Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri, mentre da noi gli ospedali si stanno riempendo. E Locatelli dice che la pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane è decisamente aumentata. Il rischio di scongiurare e di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal covid riducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche. A questo rischio può contribuire anche un elevato numero di contagi tra gli operatori sanitari che è certamente non trascurabile. Però non possiamo parlare di ospedali vicino al collasso, questo no. Nelle passate ondate come quella dello scorso inverno abbiamo avuto pur in assenza di varianti così cantagiose numeri doppi di ricoveri sia nelle aree mediche sia nelle rianimazioni. È il frutto del largo numero di vaccinazioni effettuate. Quasi 120 milioni di dosi somministrate a 26 milioni di persone che hanno ricevuto la terza dose sono numeri straordinari e hanno consentito di proteggere largamente dal rischio di malattia grave o addirittura fatale. E poi ci sono risultati anche più che apprezzabili sulle vaccinazioni per i minori. E dice che non c'è alcun segnale preoccupante sui profili di sicurezza. E poi le mascherine FFP2 sono preferibili alle chirurgiche, dice certamente, soprattutto quando vi è maggior rischio di diffusione dell'infezione virale. Quello che mi sono chiesto io, le mascherine FFP2 o KN95, N95, sono la stessa cosa, hanno una protezione altissima, purissima. Quella è una pubblicità degli anni Ottanta. Hanno una protezione altissima. Ma per qualsiasi cosa, batteri, polvere, si utilizzano veramente e sono eccezionali queste mascherine. Perché diventano obbligatorie solo adesso in alcuni casi e non hanno reso obbligatorio queste FFP2 fin dall'inizio? Invece ti dicevano che potevi metterti anche uno straccio davanti alla faccia? Perché fin dall'inizio non hanno detto obbligo di mascherine FFP2 punto e basta e a capo? Non qualsiasi mascherina, ma perché ci sono delle differenze ciclopiche, attenzione, ci sono delle differenze enormi tra mascherina e mascherina. Adesso dicesi mascherina qualsiasi cosa che uno si mette davanti al naso, però le FFP2 che io sto utilizzando da un certo periodo sono assolutamente efficaci con un'efficacia molto alta. Perché Locatelli dice sono preferibili certamente, certamente preferibili? Perché non hanno detto al posto che comprarle da questo, da quello, mascherine dubbie strane? Perché non comprare e non dire fin da subito bisogna utilizzare queste? Mi sembra una cosa così banale, così semplice, chi lo sa? Perché uno studio dimostra che se due soggetti, uno dei quali positivo, indossano correttamente una FFP2, il rischio che la persona non infetta ha di essere contagiata è pari a circa lo 0,4%. Lo stesso studio compara l'efficacia protettiva della mascherina FFP2 rispetto a quella chirurgica. Una mascherina FFP2 conferisce una protezione superiore, attenzione, di 75 volte rispetto alla chirurgica correttamente indossata. 75 volte. Impressionante, vero? Poi evitare stadi, teatri, cinema, una reazione giustificata o in questi luoghi si può vivere in sicurezza, dice, è da mettere in conto che in una fase come questa si generi paura di frequentare luoghi molto frequentati. Tuttavia la scelta di limitare a spettatori con il super green pass e muniti di mascherina FFP2 resteranno strumenti in grado di ridurre molto il rischio di contagio. Cerchiamo di mantenere razionalità e non priviamoci immotivatamente di momenti di svago, cultura e di socializzazione pur con il massimo senso di responsabilità. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove ci sono video di notizie e anche di fai da te. Questi video di due canali di youtube sono condivisi poi in facebook dopo qualche ora nella pagina Teleitalia. Arrivederci a tutti e grazie.